La raccolta di firme prosegue e cresce giorno dopo giorno. Continua a far bareccia la mozione presentata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, con la quale si chiede alla Regione Puglia di estendere da 3 a 5 anni gli indennesi per chi ha subito danni dall'axilella in provincia di Lecce, la più colpita da quello che possiamo definire un vero e proprio flaggello. Dopo Melendugno, Guagnano, Castrignano del Capo, Patù, Supersano, il tour del Movimento Regione Salento ha fatto tappa a nuovo l'impiazza Regina Margherita, dove si sono ritrovati agricoltori, olivicoltori, rappresentanti istituzionali e semplici cittadini. Una battaglia bipartisan che non è solo squisitamente economica. È un'iniziativa che abbiamo sposato da tantissimi anni e quindi ringrazio anche il consigliere regionale Paolo Pagliaro per la sua presenza qui a Novole sul territorio, dove crediamo che la xilella, il problema xilella che affligge il nostro Salento da tantissimi anni non sia una battaglia politica ma una battaglia di territorio, dove noi dobbiamo difendere i nostri agricoltori con dei sostentamenti non solo economici ma anche incentivare il reimpianto di questi alberi secolari. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione della provincia di Lecce su un tema di grande interesse per rivendicare attenzione e rispetto per un territorio che ha sofferto più di altri a causa dello tsunami della xilella. Continueremo questo nostro tour in tutte le piazze, ha sottolineato Pagliaro, perché crediamo che sia indispensabile raggiungere un risultato fondamentale per il futuro del comparto agricolo e olivicolo dei nostri territori che vivono prevalentemente di agricoltura, in attesa di una totale riforestazione che regali nuova vita agli spettrali paesaggi lunari ai quali sono state ridotte le nostre campagne a causa della xilella.